Stiamo riscoprendo che Vergato veramente è un paese dove la creatività è veramente sviluppata e speriamo di dare un impulso ancora con questa manifestazione di Vergato Arte che ha fatto rifiorire o affiorare nuovi talenti che adesso sono già fermati a livello provinciale regionale con mostre da tutte le parti, tanto è vero che qui abbiamo spettato artisti che sono nati da poco tempo ma hanno già diverse mostre importanti in corso. Patrizia Gamberi è una scoperta di Vergato Arte, ha una storia particolare, faceva già delle ottime cose nel 1977 e un anno, il secondo anno di Vergato Arte gli ha fatto una sorpresa facendogli trovare un quadro suo di allora che anche lei si era dimenticata di averlo fatto e da lì gli è ritornata la passione di far vedere le sue capacità di artista. Questo è un quadro importante dove ci sono una serie di figure che lei definisce che gli vengono naturali di notte quando lei non riesce a dormire e si alza molto spesso e comincia a pitturare, è una iperproduttiva nottambula, io non mi meraviglio perché sono così anche io. E abbiamo anche, adesso sta elaborando tutte queste forme tridimensionali e sono lavori molto interessanti, probabilmente avranno uno sviluppo particolare, è molto importante vedete che ci sono sempre le mani che sono presenti nell'arte di questa artista e lei mi diceva che è ossessionata delle mani, ossessionata vuol dire che è ammirata delle mani, quindi lei non riesce per ora a concepire un quadro dove non ci siano le mani, anche qua in un corpo femminile dove non c'è la parte alta, non c'è testa, non c'è niente, ma ci sono delle mani protese. È un artista molto interessante da seguire, sta avendo un ottimo successo e noi siamo contenti di averla scoperta e gli auguriamo tanta strada. Da questa parte abbiamo un artista già affermato, si chiama Sauro Benassi e ha tutte queste forme particolari che lui sviluppa in un modo molto veloce e anche molto creativo. Gli ho domandato molte volte qual è il suo segreto, non me l'ha mai svelato, spero di riuscire a svelarlo, a fargli svelare il suo segreto man mano che andiamo avanti con l'amicizia e collaborazione. Da questa parte abbiamo una vergatese di adozione, si chiama Carla Pancaldi in Damiani, per i vecchi vergatesi il Damiani fa comprendere chi era il soggetto, era il vecchio direttore della ILME di vergato, che è una fabbrica storica, poi è rimasta sempre legata al nostro paese e quindi è stata una nostra collaboratrice perfetta per riuscire a far sì che la mostra prenda un certo valore. è una figurinista, è una paesaggista, è molto brava, adesso sta avendo un altro tipo di evoluzione, questi sono lavori, mi ha detto che mi ha portato dei lavori di qualche anno fa, perché adesso purtroppo ha avuto qualche problema fisico e non ha potuto sviluppare il suo lavoro stesso. Qui abbiamo un altro artista del luogo, si chiama Mikol Fornai, è un artista molto interessante, sviluppa una pittura non tradizionale anche se figurativa, ma con qualcosa di moderno all'interno, è un misto molto interessante, perché tra l'altro il colore che usa sono colori stupendi e danno una sensazione bella, gioiosa della vita. Questa è la figura di una donna interessante ed è un quadro molto buono e questo è una sena d'amore, ma pur essendo corpi nudi, vedete non è diciamo volgare, è estremamente erotica ma amorosa, è piena d'amore questo, quindi non è una figura che dà fastidio, è un artista da seguire molto. Poi qui invece abbiamo una, si chiama Andreoli, Anna, ed è stata risvegliata anche lei dal lato artistico con Vergato Arte, ha ripreso la sua pittura che ha abbandonato 30 anni fa, lei è anche accademica, ha avuto delle scuole, ha frequentato delle scuole e sta riprendendo adesso tutto il modo di pitturare, cioè il suo modo di pitturare. Poi andando avanti abbiamo qui un quadro di Ambrosini che è qui veramente per altri motivi che non sto a spiegare e un altro artista interessante che è stato scoperto da Vergato Arte che si sta a Stefania Nanni, il quale sta avendo un successo strepitoso, nel giro di un anno, un anno e mezzo ha fatto una strada favolosa, infatti attualmente è impegnata su tre fronti diversi e penso che sarà un'artista molto, molto apprezzata negli anni e siamo contenti che sia una nostra scoperta di Vergato Arte perché il succo della situazione e anche il fine della nostra iniziativa in Vergato Arte è proprio di far amare e di riscoprire questi artisti che sono nascosti e ce n'è tantissimi perché potrei fare un elenco grandissimo e speriamo che vengano fuori tutti per vedere di riuscire a fare un lavoro interessante per l'arte di questa zona e per l'arte in generale. Qui abbiamo invece l'artista, un'artista straniera ma di Vergato di adozione, l'abbiamo adottata a Vergato Arte ed è un'artista molto, molto interessante. Si chiama Ludmilla Jadukian. Ed è di origine russa, stabilita a Vergato ed è una grande collaboratrice di Vergato Arte. Fa dei lavori molto, molto interessanti, anche questo nudo bellissimo. Lei proviene dai studi nel suo paese d'origine di composizione, insegnava composizione del disegno nella suo paese d'origine. Ed è, si vede come sviluppa tutta la sua arte che è bellissima, nei particolari, chiaramente bisogna andarci vicino, raccogliere, vedere esattamente cosa può saltare fuori. Ci sono tanti particolari che sono bellissimi e non lavora solo in bianco e nero ma anche è una notevole pittrice, nel quale sviluppa dei bellissimi lavori con dei colori e dei soggetti anche nelle nature morte. Riesce a dare un'impronta bellissima, moderna e piacevole. Ludmilla è un'artista molto, molto interessante. Qui abbiamo un'artista interessante, un giovanissimo artista che lavora con le sculture, sono sculture in acciaio e ho visto la sua produzione, è molto, molto interessante. Noi abbiamo la fortuna di ospitare nella nostra galleria di Vergato Arte 2013, appunto a una delle sue opere, ma è una delle sue opere più importanti perché è un'opera che ha vinto, o no, è arrivata seconda nel Gran Pere Mio Galleria De Marchi a Bologna. È una scultura molto semplice, nella sua struttura, però è di una bellezza estrema. Questa rappresenta la famiglia, sacra famiglia non lo so, ma la famiglia in generale, io non dico mai sacra famiglia perché tutte le famiglie sono sacre, appunto la figura del padre, della madre e del bambino. È molto, molto interessante perché è sviluppata con delle purezze di linee e con appunto poche linee e pochi arzigogoli, diciamo così, è riuscita a rendere l'argomento della famiglia molto interessante. È un artista, Fabrizio Colangelo, del quale sentiremo parlare penso ancora ed è un'altra scoperta di Vergato Arte. Mi svesto dalla veste di direttore artistico e divento artista e voglio presentare qualche mio lavoro. Questo è un quadro che mi ha fatto soffrire, veramente. Io solitamente sono uno veloce, ma questo qui ci ho messo tre anni a comporlo ed è intitolato Sogno. Questo invece è la venditrice di Coci che nasconde un messaggio all'interno molto particolare che non sto a spiegarvi adesso perché non abbiamo il tempo. Questi invece sono lavori che faccio adesso, nel 2013, questi invece sono lavori che eseguivo nel 2000 esattamente. Sono lavori di incisione sulla carta che faccio solo io. È una tecnica mia particolare che mi ha dato tante soddisfazioni vincendo tanti premi in giro per l'Italia. Questo è un altro quadro che amo molto Picasso e l'ho tradotto a livello cubistico, però non è la mia matrice. Io non amo essere classificato con una matrice di tendenze, quindi per me tutte le tendenze sono buone e è solo il soggetto che mi indica quale eventualmente corrente io posso eventualmente sviluppare nel mio quadro. Questi appunto sono quadri che hanno un'evoluzione, questi sono tra i primi quadri, c'è differenza nella sviluppo della stesura del colore che sono pastelli normalissimi, ma man mano che si va avanti si vede una perfezione fino a arrivare alle ultime immagini che vedete che il colore è molto più potente, steso in un certo modo e anche il tratto dell'incisione è molto preciso perché lì ho cambiato tecnica, una tecnica che ci ha messo 5 anni a metterla a punto. Poi abbiamo aggiunto anche i sensi logici, aggiungendo non solo una tecnica figurativa ma anche un senso al quadro. In questo caso il moderno Icaro è una critica dei giovani nei quali si sono adagiati mettendo le ali a pesa al chiodo e sfidando il sole nudi e perderanno sempre. Quindi abbiamo anche questo quadro che è un quadro a cui tengo moltissimo perché è un quadro che è anche sviluppato e raffigurato nell'annuario Mondadori e ha una sua storia particolare fino a arrivare agli ultimi lavori che adesso ho messo a punto, qui sono alberi per esempio tutti colorati che non sono le stagioni ma sono gli umori di noi stessi, tutti i giorni noi abbiamo anche durante il giorno dei cambiamenti di umori, le cose restano sempre fisse, terra, albero, cielo, sole o luna. I colori invece cambiano secondo gli umori che noi abbiamo e da qui ho sviluppato anche tutte le altre tematiche ma tornando proprio all'esenzialità del colore fino ad arrivare quasi a una punta di naif proprio perché attualmente è la cosa che mi interessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.